Amiche e amici di Taras TV, benvenuti a un altro appuntamento di Domandiamolo. In questa puntata parleremo di danza sportiva e lo facciamo con il coordinatore nazionale della Federitalia, Piero Mangione. Prima di parlare del grandissimo evento che ci sarà in Federitalia il 25 aprile a San Benedetto del Tronto, che è un concorso nazionale di danza sportiva, parliamo un po' del tuo percorso professionale e artistico, perché tu hai iniziato con la danza standard. Sì, ho iniziato nel 1976 per hobby, come tutti d'altronde l'abbiamo fatto sotto il profilo ludico, ricreativo, niente di più, niente di meno. Poi il mio grande maestro, perché io gli sarò sempre grato, il mio maestro Enzo Basile, si rese conto che non era più un gioco, ma stava diventando qualcosa di un po' più serio. E iniziai il percorso prima con il liscio palo da sala, come tutti d'altronde, poi iniziai le danze standard con Gianni Doria e una sequela di grandi amici e oggi grandi professionisti. Che tempi erano quelli della danza negli anni 70 e 80? Guarda, quei tempi li rimpiango tantissimo. Per un semplice motivo c'era coesione, c'era fratellanza. Non c'era una guerra fredda tra colleghi. Basti pensare che ancora oggi alcuni colleghi, nonché amici, tra, ne faccio un nome, il maestro Carpignano, che è stato un pioniero, lui nato molto prima di me, il maestro Montanaro, ma anche altri, sono quelli che quando noi ci trovavamo, anche se con le proprie scuole o con i propri ideali, era una collaborazione, era una fratellanza. Tu quindi che c'è, secondo te c'è differenza tra quei primissimi anni in cui la danza sportiva muoveva proprio i primi passi e la danza sportiva attuale, soprattutto quella latinoamericana, danze caraibiche standard, cioè qual è la differenza che noti, anche per quanto riguarda i giovani, soprattutto, ci sono dei talenti? C'erano e ci sono anche oggi. Il cambiamento c'è stato, purtroppo, ahimè, devo dirlo non in positivo, ma man mano che si è andato avanti si è completamente stravolto il senso del vero, della vera terminologia del ballo, della danza, dell'essere in tutto un corpo, cioè un rispetto reciproco. Piero, tu sei coordinatore nazionale della Federitalia, un grosso ente nazionale. Intanto, che cos'è la Federitalia? È un ente riconosciuto anche dal MIUR, forse è l'unico ente riconosciuto dal MIUR? Sì, mi fa piacere che questo lo hai sottolineato. Federitalia, sinteticamente vi spiego, è nata nel 92, ma è nato con un ente prettamente sul sociale, man mano negli anni si è sempre occupato sotto questo profilo. Nel 2009, abbandonando, cioè io usci fuori da un altro ente, l'esperienza devo anche tanto a questo ente. Mi sembra di capire che non c'è solo la danza come sport? Assolutamente no. Oggi Federitalia, dicevo, è un ente di promozione dove a 360 gradi ricopre la maggior parte di tutte le discipline. Andiamo dalla comunicazione al sociale, alla cultura, allo sport, al turismo e soprattutto abbiamo 21 comitati esteri legalmente ufficializzati. Tra l'altro noi abbiamo un riconoscimento dal governo della Norvegia, dove stiamo già iniziando degli interscambi con questo Stato. Ci siamo aperti verso i Balcani, quindi stiamo aprendo anche una collaborazione verso Albania e con la Croazia. Insomma, grandi collaborazioni anche con i Sesteri, però tu sei tarantino e sul territorio di Taranto, Federitalia, come si muove? Io sono un tarantino adottato perché ho iniziato la mia vita a Taranto da lontano 69 all'interno dell'Ilva. Mi sento oggi puro sangue tarantino, ma non rinnegando le mie origini gallipoline, perché io sono leccese gallipolino, non le potrò mai rinnegare. Taranto è stata la punta di amante nel ballo, forse qualcuno non lo sa. Questo è importante, precisiamolo, perché già Taranto sta dando moltissimo, ci sono molti talenti tarantini, sia a livello di musica, dal punto di vista teatrale, del cinema e non da ultimo, anche ci sono molti personaggi importanti per quanto riguarda lo sport, quindi anche nella danza? Guarda, noi nella danza provincia di Taranto, Taranto provincia, ha avuto dei pezzi non di poco conto. I miei tempi, basta pensare, ripeto, io, Carpignano, abbiamo fatto le nostre competizioni, abbiamo avuto i nostri titoli, abbiamo portato alto l'onore di Taranto e della Puglia insieme ad altri colleghi di Bari, di Foggia, di Lecce che non vanno di mettere. A proposito di competizioni, veniamo alla competizione che poi più che una competizione è un concorso nazionale, parliamo del concorso nazionale che ci sarà a San Benedetto del Tronto che è un concorso dove vedrà tanti partecipanti da tutta Italia. Sì, qua mi soffermo qualche minuto in più, cioè il concorso, perché lo chiamiamo concorso e non campionato? Allora, un ente, stabiliamo una regola, un ente non può tranquillamente farli perché non glieli vede nessuno, noi vogliamo uscire fuori dagli schemi, fuori dai canoni. Lo chiameremo concorso di danza sportiva perché in effetti non è una competizione, ma è un concorso dove ci saranno delle borse di studio, dove ci sarà regolarmente una giuria. Chiaramente non è finalizzato solo la danza sportiva, ma abbiamo, nello stesso giorno, la danza accademica, quindi sono due concorsi in parallelo, uno nel teatro, l'altro nel palasport. Uno è diretto, la direzione artistica della nostra grande, nonché amica carissima, Caroli Smith. Tra l'altro, Caroli Smith, ricordiamo per chi di danza non è massica, la presidentessa di giuria di Ballando con le stelle, e poi chi altro c'è? Mentre nelle danze accademiche abbiamo un grande, credo che inequivocabile, unico al mondo, ma sulla scena internazionale, il mio grande amico, lo voglio rimarcare, il mio grande amico Raffaele Paganini. Lui dirigerà il nostro direttore... Quindi Raffaele Paganini ha la direzione artistica? Certo, Raffaele Paganini ha la direzione artistica all'interno della Federitalia per il settore danze accademiche, e Caroli Smith, la maestra Caroli Smith, ha la direzione artistica per ciò che comprende la danza sportiva. Per quanto riguarda le regioni, o meglio, già stanno arrivando delle domande per il concorso, a che punto siamo? Allora, il concorso ufficialmente saranno presentati il giorno 15 febbraio, ci sarà una conferenza stampa, alla quale già ti anticipo che... Saremo presenti. Sarai presente. Mi faccio portavoce a nome del Presidente nazionale, alla quale abbiamo anche deciso, se ti farà piacere, dove tu sarai ufficialmente il nostro addetto stampa. Quindi dal 15 poi noi, con i nostri mezzi, quindi sia su web, sia sul sito, sulla mia pagina di Facebook, chiaramente daremo ampia diffusione del concorso dei regolamenti, le domande di adesione. Quindi bisogna aspettare al 15 febbraio per avere tutti i particolari. Qualcosa invece, possiamo addentrare? C'è il concorso che prevede poi sostanzialmente, per quanto riguarda le coppie materialmente che si esibiranno? C'è già una giuria in mente? Certo, non la svelo perché, come al solito, non viene mai... Qualcosa però ce la devi dire in più, dai. Cioè, la giuria ovviamente non viene mai svelata prima, anche durante le normali competizioni. Se avete fatto caso da un ultimo periodo a questa parte, da un 3-4 anni, non si usa più mettere i nomi dei giudici sui vari programmi. Si fa lo staff tecnico, cioè il direttore di gara, per quello che mi concenno lo posso ufficializzare, il nostro grande Daniele Delpriore, un grande professionista delle danze standard. Poi abbiamo il sistema skating, che comunque fa parte del nostro circuito. C'è il presidente di giuria, che in questo caso è la nostra direttrice, Caroli Smith. Poi abbiamo anche una validissima collaborazione, che è il nostro, diciamo, il cervello, il maestro Tino Michelotto, nonché il marito della Smith. In lui è il cervello un pochettino di tutto il sistema eventi organizzativi del concorso. Il concorso prevede per la danza sportiva, i primi tre posti saranno segnati delle borse di studio, dove studieranno con la Smith e con altri professionisti. Presso la scuola di Caroli Smith? Presso l'Accademia. Presso l'Accademia della Caroli Smith. Mentre, per quanto concerne... Si trova all'Accademia a Roma? A Roma, a Roma. Ne ha varie sedi. C'è l'Ista a Roma, poi ha dei vari punti, Pescara, Bari, cioè... È presente in ogni regione. Per le danze coreografiche, l'artista, non posso anticiparlo per un motivo molto semplice, perché abbiamo già mandato delle richieste di borse di studio, quindi chi vincerà i primi tre posti, la scuola che si classifica con il maggior numero di presenze, con il maggior numero di punteggio, chiaramente vincerà la borsa di studio. E quindi il gruppo che vincerà quel dal primo al terzo posto andranno a studiare con più coreografi. Non è detto che debbano studiare con coreografi di danza sportiva. Possono studiare con tanti amici anche di danza classica, moderna, contemporanea e hip-hop. Senti, Piero, ma un evento, per vedere un evento anche sul territorio di Taranto, perché lo diciamo per tutti coloro che ci seguono su Taras TV, l'evento in questione si terrà il 25 aprile a San Benedetto di Tondo, e quindi bisogna spostarsi eventualmente per noi che operiamo sul territorio tarantino. Ma un evento a Taranto, tu che sei il coordinatore nazionale, un grande evento, qui magari anche abbiamo tante belle strutture a Taranto. Come si suol dire, il tempo fa a dimenticare le cose belle. 1995 a Taranto, il sottoscritto in collaborazione sempre con l'amico Carpignano, siamo stati due folli, due pazzi, portando a Taranto i campionati assoluti professionisti di danza standard al Palafiom. Credo che dopo quell'esperienza, perché con insistenza contro tutte le regole, contro tutte le regole nel senso che Taranto, la Puglia, o meglio dalla Campania in giù, in Sicilia siamo visti come il fanalino di coda. Tanto per cambiare, insomma, anche nella danza sportiva. Ma in tutto. Cosa succede? Qui non voglio essere polemico. Noi non abbiamo un grosso supporto politico, sociale. Secondo la tua visione, ecco, cerchiamo di spingerci più in là, secondo la tua visione proprio di coordinatore nazionale di un ente così importante, per il prossimo futuro lo vedremo un evento così importante come quello che ci sarà il 25 aprile? Si può. Si può avere. Allora c'è una forte coesione tra gli addetti al lavoro. E mi spiego. Se la finiamo di guardarci in modo cagnesco, ancora oggi, chi opera nei vari enti, chi opera nelle proprie scuole, noi dobbiamo avere un fine, valorizzare il nostro territorio, valorizzare la Puglia, dove le istituzioni spesso non ci vedono perché sono presi da ben altri problemi più seri, probabilmente. No, no, questo è importante quello. Ti interrompo per dire perché questo è importante, perché a volte sembra la danza sia qualcosa di soltanto da considerare come hobby. E poi anche intorno alla danza ci può essere un riscontro positivo anche in termini di occupazione, non solo. Perché bisogna dirlo, almeno ad oggi non ci sono in Puglia grossi eventi del genere. Per concludere questa nostra intervista, Piero, tu che progetti hai per i prossimi mesi, però restando sul territorio di Taranto, e che cosa speri anche un tuo sogno particolare da realizzare, sempre in termini di danza sportiva? Il mio sogno, spero che chi ascolta e arriva il mio messaggio, ma il mio non personale di Piero Mangione, ma il messaggio di Federitalia, ma oltre Federitalia, di tutti coloro che amano questo mondo. E quello di portare a Taranto, e io ormai sono la bellezza di 40 anni che sto su Taranto, quindi questa città l'adoro, perché ci vivo, vorrei portare un evento in modo unitario. Sulla falsa riga di quello che accadrà il 25 aprile a San Benedetto, quello è un concorso Federitalia, il mio sogno nel cassetto è una mega settimana, non un giorno o due. Cioè un campionato o proprio un congresso? Congresso, campionato, aggiornamento, formazione, e portare a Taranto possibilmente 7-8 mila presenze. E allora amici di Taras TV, con questo auspicio è di vedere migliaia di persone sul territorio di Danza, a Taranto Città Pro, perché ci sono le strutture che permettono un campionato, un congresso di danza, con l'auspicio, la speranza è questa, caro Piero Mangione. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Domandiamo. Grazie Piero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.